Sì, l'impianto è quello di aver sfruttato al meglio l'occasione al primo tempo. Poi i ragazzi sono una buona squadra, complimenti a loro. Tu sei un vivaio Roma come Verre, abbiamo visto anche che Politama, che se non erro del tuo stesso anno, sta facendo cose egregie al Sassuolo. Non credi che la politica della Roma nei confronti dei giovani, visto anche il fatto che Gerson è molto contestato, pagato anche 18 milioni di euro, sia sbagliata? Sono cose della società, io non entro in merito a questo, sono un giocatore dell'Inter adesso. Penso a questa squadra prima, al Pescara, e poi al prossimo anno, al futuro che verrà. Pensi che questo possa essere l'anno giusto anche per esordine nazionale? Magari, comunque è sempre un sogno che ho avuto da piccolo, quindi devo continuare a lavorare per raggiungerlo. Che effetto ti ha fatto a tornare all'Olimpico? Niente, comunque ci ha esordito qui, quindi è stato sempre un bel effetto.